La testa del chiodo. La palma della mano, i datteri non fa. Sulla pianta del piede, chi si avampicherà? Non porta scarpa il tavolo, su quattro piedi sta. Il treno non scodinzola, ma la coda ce l'ha. Anche il chiodo ha una testa, però non ci ragiona. La stessa cosa capita a più di una persona. Gianni Rodaro. Gianni Rodaro.